Facciamone una grande, di un bel colore, quello che piace anche a Albert. Oh, oh sì. Otone in leone, mi sono levato dalle palle pure quello. Sì. Mamma mia, finalmente. Oh. Dai Filippo, fammi fare lo screen a me. Ecco tu, dai. Non c'è nessun paio. Non c'è nessun paio. Andetegli un cazzo per tutta la partita, vai. Oh no. Sì, ovviamente. Sì, ho preso anche il Dynamek. Oddio, ovviamente, sto Dynamek di merda. Basta. Non lo gioco più Dynamek. Basta. Si resetterà fino alla fine dei giorni. Basta. Stasera, stasera. No no, stasera cambio. Ok. Si va fuori Dynamek. Vai, mettete le morte. Tutto questo, dai. Dai. La padonna. Ti ame. Basta. Basta. Ragazzi, facciamo un segno di approvazione a Thor, che mi ha giustamente salvato. Qua, OP, aiuto di Thor in lane. Ragazzi, questa clippatela, per favore, che penso sia l'unica bolla decente che tirerò in tutte le partite che vedete con Bibi. Perciò clippate, clippate, clippo, clippo, clippo. Easy. Eh, è assolutamente Alicia. Bega. Attenzione. Oh, l'hai chiccata veramente! Dai! Alizzo! No! No! Alizzo! No! Ma l'hai chiccata veramente! No! Oh no! Ma non ci credo! Alizzo, cosa mi combine? Mi è impazzito, ragazzi! No, Alizzo no! Sì! Oh, dai! Non ho fatto niente in questa partita! Dai, raga! Full rank 3! Ok! Un po' ho fatto anche con leone! Non so! Non so! Non lo vedo! Vai, raga! Maravellini! Tutti! Tutti rossi! Finalmente! Ma... è un po' abbronzata alta e con i capelli neri! Quest'altra è una bambina bionda! Cioè, nel senso... Allora... Allora... Vediamo se si dovrebbe esserci fare... Tutti rossi! Allora... Avrebbe avuto il più... Ah, non ce l'ha bionda? No! Sei l'ha rossa! È vero, è vero! Eh, sorry, ho sbagliato quello! Sono più utile! Di piuttosto rubato! Che magari è un pochino mezza! Che sembra magari di aletto o cosa di genere! era proprio necessario e che content danny lascia la equac ma così gliel'abbiamo detto e e e e e